Ciao, benvenuta o benvenuto sul mio canale. Oggi voglio proporti una nuova pillola, ma non di medicina, una pillola video di un borgo italiano. Prima però ti chiedo la cortesia di un like al video e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale e cliccare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Per te un gesto semplice, per me una enorme gratificazione che probabilmente farà crescere il mio canale, Borghi, in pillola, in camper. Grazie, buona visione e vai con la sigla! Siamo a Postiglione, un comune di circa 2000 abitanti in provincia di Salerno. Le origini lo fanno risalire al X secolo, quando gli abitanti dell'antica Pestum furono costretti a rifugiarsi in questo luogo per difendersi dalle incursioni dei saraceni e dei turchi. È dominata dal castello normanno dell'XI secolo. La fontana monumentale. La statua al suo interno rappresenta la primavera. E quindi la chiesa parrocchiale di San Giorgio. Risale al XIV secolo e a tre navate compianta a croce latina. Sul fondo dell'abside, al di sopra del coro, la statua di San Giorgio. A presto!